Si è svolta la cerimonia, come tutti gli anni, della consegna delle borse di studio ai tre alunni più meritevoli delle scuole medie di Berceto, che fanno parte dell'Istituto Comprensivo Malerba di Fornovo. Quest'anno le tre borse di studio sono andate, della prima media a Francesca Caleffi, della seconda media a Giuseppe Carpanese e terza media a Giacomo Bigliardi. Tutta la scuola di Berceto si evidenzia per una cordiale cerimonia che svolgiamo proprio tutte le state, nel giorno della festa degli emigranti, per unire l'emigrazione, la storia del paese di Berceto e il futuro della stessa cittadina che è rappresentato dai nostri studenti. La scuola, come sempre dico, è attiva, anche quest'anno abbiamo avuto ore in più di italiano, matematica e inglese, quindi questo ci conforta per il futuro e sappiamo di essere nel giusto per rendere più vivo e vitale il paese, anche nel futuro.